Una buona giornata cari telespettatori, soprattutto una buona domenica. A Borgo, stazione a Udine, nuovamente blindata e passata al settaccio da parte delle forze dell'ordine. Una settantina di agenti schierati, numerose le denunce effettuate nei confronti di stranieri. Vediamo il bilancio. Nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato, su disposizione del questore di Udine, personale della Polizia di Stato, della questura di Lunez e dei reparti di prevenzione crimine Lombardia ed Emilia Romagna, del reparto mobile di Padova, dell'arma dei carabinieri, guardie di finanza e polizia locale di Udine con unità cinofile, ci sono stati dei controlli straordinari in Borgo, stazione, finalizzati all'implementazione dell'attività di prevenzione generale con particolare riferimento al contesto della criminalità diffusa. L'imponente dispositivo di forze e di polizia messo in campo ha comportato l'impiego di oltre 70 uomini che ha permesso l'identificazione di 403 persone e il controllo di 115 veicoli e di 22 esercizi commerciali. Un cittadino iracheno è stato denunciato per possesso di un coltello occultato all'interno di uno zaino, altri due cittadini stranieri sono stati denunciati per possesso di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Un cittadino marocchino è stato invece denunciato per la violazione dell'ordine di abbandonare il territorio italiano a seguito di provvedimento di espulsione, mentre un cittadino pakistano è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Quattro cittadini stranieri di origine marocchina, pakistana e tunisina sono stati invece sanzionati amministrativamente come assuntori di sostanze stupefacenti. E ancora un cittadino straniero è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Sono state inoltre elevate tre contestazioni al codice della strada. La politica, la maggioranza udinese cerca di far quadrato dopo le frasi di Fontanini rilasciate i microfoni di Telefriuli. Il sindaco qualche volta è anche stanco perché Udine è una città un po' difficile e in alcuni momenti anche ingrata. Se poi la gente non coglie queste importanti iniziative che abbiamo fatto, ho grandi motivazioni. L'intervista del sindaco Fontanini rilasciata ieri a Telefriuli scuote la politica udinese, in particolare il centro-destra. Forse la paura di perdere per la prima volta nella sua lunga carriera da vincitore potrebbe aver spinto al primo cittadino a fare un mezzo passo indietro sulla ricandidatura. Questa è l'ipotesi più accreditata. Le ragioni vere però nessuno le conosce, sta di fatto che Fratelli d'Italia non pare aver gradito lo sfogo e chiede ora una verifica agli alleati. Sono parole forti, io diciamo non le direi mai. Riteniamo che non si possa più aspettare e quindi è necessario che il sindaco Fontanini sciolga definitivamente questa riserva. La quadratura del cerchio ora va cercata all'interno dell'alleanza. Progetto FWG non teme i percussioni sul voto. Questo è uno sfogo, non era assolutamente rivolto ai cittadini, lui si riferiva a una parte della minoranza al di là che Pietro sia il futuro candidato sindaco del centro-destra e lo spero. Io vi posso dire che il centro-destra è compatto sotto tutti i punti di vista. Altri nomi all'orizzonti per ora non ci sono. Si attende da Fontanini la decisione definitiva che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Si pensa a un'alternativa che potrebbe arrivare dalla società civile e non direttamente dai partiti. È uno sfogo che evidentemente dice comunque insomma anche di una fatica e è uno sfogo che comunque ci tocca fino a un certo punto io credo. Alternative ce ne sono sicuramente. La stima che abbiamo nei suoi confronti penso l'abbiamo già manifestata. Adesso tocca a lui. Aveva fretta di nascere una bambina venuta alla luce ieri mattina in un'abitazione di Aviano. Visto il parto imminente mamma e papà non sono riusciti a raggiungere l'ospedale autonomamente e hanno chiamato il 911 per avere supporto. L'infermiera della Sores qui è stata immediatamente transitata. La chiamata hanno guidato al telefono la giovane donna di 26 anni e il papà nelle manovre per far venire alla luce la bambina mentre un'ambulanza stava raggiungendo velocemente la casa luogo del lieto evento. I genitori, i cittadini stranieri sono stati guidati al telefono dagli infermieri della Sores grazie ad un traduttore che li ha assistiti in ogni momento. Il servizio di traduzione risulta fondamentale non solamente in questa felice occasione ma in qualsiasi momento una persona in difficoltà che non parla la nostra lingua chiami il NUE 112. L'equip sanitaria dell'ambulanza ha poi trasportato la mamma e la bambina all'ospedale. Entrambe stanno bene. Sistema NUE, quindi rimaniamo in argomento. NUE 112 e Sores del Friuli Venezia Giulia è stato definito tra i migliori d'Italia. L'esperienza del Friuli Venezia Giulia è stata giudicata positivamente e definita efficiente con la centrale unica di risposta di Palmanova, a prescindere dalla conoscenza del territorio, l'operatore del NUE 112 e dell'infermiere della Sores può inviare i mezzi di soccorso nel luogo giusto grazie a una localizzazione geografica adeguata, precisa e corretta. Perché nel 75% dei casi le chiamate che convergono nella unica centrale dell'112 per tutta la regione, Friuli Venezia Giulia, nel 75% dei casi sono già sulla numerazione, sulla coda si dice tecnicamente 112. Quindi il cittadino ha già recepito, ha già capito che quello è il numero unico dell'emergenza. L'avanzamento tecnologico permette di agire con velocità senza che l'operatore conosca il territorio, ma la Sores ha ancora altri obiettivi. Possiamo lavorare su due aspetti. Innanzitutto è quello di avere, di riuscire in qualche modo a creare una rotazione proprio del personale all'interno della Sores, ma deve essere il personale che possa lavorare anche all'interno delle strutture ospedaliere o sul territorio, che è quello che di fatto i professionisti chiedono. Ma non è solamente perché viene chiesto i processi, ma perché queste sono anche ampiamente dimostrate essere valide a livello nazionale, dove già sono stati raggiunti queste modalità di operatività. Una sontuosa webgesteco Cividale fa la prima vittima illustre in serie A2. Ieri sera al Palagesteco è finita 76-71 per gli uomini di Pilastrini e contro la Fortitudo Bologna. Sentiamo le interviste. Abbiamo messo Cividale al centro del villaggio. Abbiamo battuto la Fortitudo con pieno merito. Abbiamo fatto la partita pazzesca, bravi ragazzi, l'allenatore fenomenale. Abbiamo dominato, poi alla fine abbiamo avuto un po' il braccino, ma erano stanchi. Abbiamo fatto la partita difensiva fenomenale, bravi. È la più grande partita di basket che ho visto in vita mia. È una cornice meravigliosa. Abbiamo messo Cividale al centro del villaggio. Io lo sapevo che siamo forti, ma dovevo rimanere umili. Andare avanti così è un'emozione enorme. Sono commosso perché è una vita dedicata al basket. Per poi vivere le emozioni così a me batte fuori forte il cuore. Il pubblico è anche abbastanza già abituato a questi finali. Ovviamente dobbiamo cercare di crescere, di chiudere le partite prima. Però anche in queste situazioni dobbiamo essere bravi comunque a portare i due puntini a casa, a vincere. Grazie a Dio anche oggi siamo riusciti a difendere la nostra casa. Te l'aspettavi che un giorno avresti affrontato e battuto la fortitudo con questa maglia? Queste sono cose, diciamo, che dal momento in cui abbiamo vinto l'anno scorso, sapevo che avrebbero giocato lo stesso campionato. Sono le partite che aspetti dal primo giorno. Ci alleniamo per queste partite qua. È un orgoglio per noi aver vinto questa partita. C'è ancora ovviamente tantissimo da lavorare, non abbiamo fatto niente. Bologna batte, Cividale batte fortitudo Bologna. Non una cosa da tutti i giorni. Abbiamo battuto un marchio storico, abbiamo giocato benissimo, un tipo caloroso. Cividale è diventata una squadra da temere. Questa è una cosa non da poco. Siamo orgogliosi che il basket di Cividale abbia raggiunto questo livello. Poi il campionato dirà dove arriveremo. Però delle solistazioni enormi per la città e per tutto lo sport di Cividale. E la città risponde sempre presente. La città risponde sempre presente. Questa è una cosa bellissima. Devo dire che non sarebbe neanche stato immaginabile fino a qualche tempo fa. Eppure è così. Udinese oggi di scena a Cremona per ripartire. Sentiamo Mr. Sottil. È stata una settimana all'insegno del duro lavoro. Siamo andati a migliorare, a vedere le cose che dobbiamo fare meglio. Ho avuto ottime risposte. Quindi domani mi aspetto. Prima di tutto una grande prestazione, di grande determinazione, di grande ritmo, ma anche di estrema lucidità. Noi abbiamo assolutamente le qualità e la determinazione, la voglia di mettere in difficoltà la Cremonese pur sapendo che non sarà assolutamente una partita facile. Che allenatore è Alvini? Quest'anno lui ha portato avanti quelle che sono le sue idee di gioco. Il suo atteggiamento è sempre stato ben delineato. Io credo che la Cremonese si trova in quella classifica lì, ma poteva avere, secondo me, dei punti in più. E quindi noi assolutamente non dobbiamo per nulla sottovalutare l'impegno, ma non è nostra abitudine. La nostra concentrazione deve essere solamente per la partita che dobbiamo affrontare. La marea bianconera verso Cremona. Ci colleghiamo con Monica Tosolini che segue per noi la trasferta. Saranno infatti più di 2.000 i bianconeri in trasferta che seguiranno la squadra dei sottili. A Cremona 2.278 tifosi, tanti club che hanno deciso di fare questa trasferta, tra cui anche quelli di Savorniano, di San Vito al Tagliamento e di Roberedo in Piano. Noi ci siamo, voi ci siete. Con delle Friuli, quali le sensazioni in questa partita in cui Luginese deve ripartire? Oggi dobbiamo assolutamente vincere e ci sarà un tifo caloroso. Secondo me sarà quasi come giocare al Friuli, sarà quasi come giocare in casa. Tu cosa dici? Oggi speriamo appunto di portare a casa tre punti, di fare una bella prestazione come nelle ultime partite scorse, di portare a casa una bella vittoria, visto la grande spinta del pubblico che ci sarà oggi pomeriggio. C'è tanta tanta emozione, voi la vivete in prima persona, vi sembra di tornare un po' dietro negli anni? Sì, questo è un bel momento, c'è un bellissimo spirito, un bel ambiente, gli tifosi sono molto presenti in tutte le partite, in tutte le trasferte e stanno dando molto per sostenere la squadra. Tanti pullman, tutti pieni Daniele. Sì, assolutamente, noi abbiamo fatto tre corriere ma abbiamo dovuto bloccare le iscrizioni, altrimenti le richieste ce n'erano altre, saremmo riusciti a fare sicuramente numeri più alti, però siamo fermati alle 140 persone che sono già impegnative da gestire. Dai, allora ci lasciamo con un Forza Udinese. Assolutamente sì, Forza Udinese. Forza Udinese sempre. E Forza Udinese lo ribadiremo più tardi durante poltronissima condotta dalla nostra Francesca Spangaro. È la prima maratona dopo le restrizioni Covid e la risposta è stata delle migliori. Gli organizzatori si attendevano alla fluenza a Magnano in riviera di 2000 persone, invece il bel tempo e la voglia di partecipare hanno portato il numero a 3000. L'evento organizzato dall'SD Maratona Magnano, presieduta da Marco Ermacora, ha avuto una risposta eccezionale da parte degli appassionati iscritti all'edizione numero 23 della Maratona che proponeva 4 percorsi da 3, 6, 11 e 17 chilometri con il sopporto della Proloco che organizza la festa delle Castagne e poi ovviamente il Comune e altre associazioni del territorio con un centinaio di volontari mobilitati appassionati che sono giunti da ogni parte della regione, Veneto e Lombardia. Bene, con questa notizia è veramente tutto. Un saluto alla regia di Tiziano Campigotto. Noi chiudiamo e ci vediamo. Alla prossima, arrivederci. Noi chiudiamo e ci vediamo.